Una sessantenne, Sara Parisi, è stata uccisa con colpi di pistola a Giarre. L'omicidio è avvenuto in strada a Giarre, in corso delle province, vicino all'abitazione della donna. A sparare sarebbe stato l'ex marito dal quale era separata da sei anni, che poi avrebbe tentato il suicidio con la stessa arma. L'uomo è stato soccorso da personale del 118 e trasferito in elicottero in gravi condizioni in un ospedale di Catania. La ricostruzione dell'accaduto e dei carabinieri che indagano, la procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Catania e della compagnia di Giarre, la donna, badante sessantenne, era uscita di casa per andare a lavorare. Avrebbe visto l'ex marito, Francesco Privitera, di 58 anni in strada, armato di pistole, avrebbe cercato di fuggire, ma l'uomo l'avrebbe raggiunta e uccisa. Gli avvenimenti successivi sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare con certezza se l'uomo si sia sparato un colpo di pistola all'addome tentando il suicidio o se il colpo sia partito accidentalmente, magari durante una colluttazione con un familiare della vittima che voleva disarmarlo. L'uomo è ricoverato in gravissime condizioni di salute nell'ospedale Canizzaro di Catania. Giunto in codice rosso è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico ed è piantonato dai carabinieri. I medici temono per la sua vita. La coppia era separata da anni, fatto non accettato dall'uomo e aveva due figli. Una viveva con la madre a Giarre e l'altro a Londra. Grazie. Grazie.